42 anni in magistratura e di questi gli ultimi 7 li ha dedicati alla città di Brindisi e alle sue vicende. Il procuratore capo Antonio De Donno conclude così il suo percorso professionale e negli studi di Antenna Sud con il nostro direttore Gianni Sebastio ha ripercorso la sua lunga e brillante carriera. Da Sindona, perché lì è stato colui che ha scritto l'archiviazione, 74 pagine di questo caso internazionale, alla Sacra Corona Unita, in mezzo c'è tanta, tanta storia. Ecco, qual è stato il momento più bello che le piace ricordare in questo momento? Beh, ci sono stati vari momenti particolarmente entusiasmanti e anche molti momenti difficili. Credo che il momento che ricordo con maggiore suggestione e con maggiore, diciamo, anche piacere è stato il momento in cui nel 24 novembre del 1991 fu costituita la prima direzione distrettuale antimafia. Dal 15 giugno 1984 a Voghera sino alla stretta collaborazione con il procuratore Cataldo Motta nell'antimafia. Le faccio forse la domanda più difficile per chiudere. C'è un nome che vuole fare in questa circostanza per dedicare la sua carriera? Io l'ho già fatto capire, la mia carriera è legata a Catallo Motta. Senza di lui non avrei fatto quello che ho fatto.